Abbiamo presentato una prima bozza di programma per questa prossima finanziaria, ci mettiamo in campo da subito come facciamo eco per individuare delle proposte reali su rinnovabili, rifiuti, mobilità, tutte proposte che consentano al nostro Paese di attuare davvero la transizione ecologica, che non sarà un bagno di sangue, se sarà guidata e sarà coerente con gli obiettivi che l'Europa si è data con il Fit for 55, che è una grande occasione anche per il nostro Paese, per questo è importante lavorare come facciamo eco da subito per costruire proposte forti per la prossima legge di bilancio che davvero scidirà se questo Paese è in transizione ecologica. Grazie Grazie